Colchim è stata la prima azienda in Italia ad introdurre l'impiego delle esche in gel contro le infestazioni di blatte. Oggi presentiamo una ricerca sul D-Gel, la rivoluzionaria esca per il controllo dei blattoidei. L'esca D-Gel ha 6 punti di forza. L'innovativo principio attivo, il Dino Tefuran, che porta la morte dell'insetto in tempi rapidissimi, il suo ridotto rischio per la salute pubblica, l'assenza di attività repellente, l'effetto a cascata, per cui le blatte vengono contaminate mangiando le feci e le parti molli delle blatte morte, il rapido meccanismo di azione, l'elevata attrattività dell'esca rispetto agli altri gel, che resta alta fino ed oltre i 7 giorni. In collaborazione con Lento Studio abbiamo svolto un test di palatabilità di tre esche gel che agiscono contro la blattella germanica in arena. L'obiettivo è stato valutare la preferenza di appetibilità di tre gel a confronto. Gli scarafaggi sono stati collocati all'interno di un'arena rettangolare, con un tempo di monitoraggio di 30 minuti. Sono state eseguite tre repliche con registrazione video. Come potete vedere dal video, sono state provate tre formulazioni diverse di esche in gel. Un'esca a base di Fipronil, un'esca a base di Midacloprid ed un'esca a base di Dinotefuran, il nostro D-gel. È stata registrata la quantità di prodotto mangiata dalle blatte e quante volte l'insetto andava a nutrirsi. I risultati del test hanno evidenziato come in ogni replica il prodotto preferito da parte delle blatte è stato il D-gel a base di Dinotefuran. In media il D-gel è stata l'esca preferita la più mangiata dalle blatte, seguita dal gel a base di Midacloprid e dal prodotto a base di Fipronil. Durante il test sono state contate anche le volte che le blatte sono andate a nutrirsi dei vari gel. I dati mostrano che le blatte hanno mangiato il D-gel per una media di 30 volte, contro le 16 volte del prodotto a base di Midacloprid e le 12 volte del prodotto a base di Fipronil. Possiamo quindi concludere come la preferenza dell'esca di gel a base di Dinotefuran sia stata statisticamente significativa. Grazie a tutti per l'ascolto.